Ciao a tutte, anche questo video è in collaborazione con la Marco Bindi Live ed andremo a creare insieme una pasta più grezza ma più facile da colorare che la pasta di segatura. Allora, per poterla creare abbiamo bisogno dell'aceto, un cucchiaio di aceto, anche due, 100 g di colla vinilica, 150 g di farina e 200 g di segatura. Allora, vi ripeto, per sicurezza, sono 200 g di segatura, 150 g di farina, 100 g di colla vinilica, sono un cucchiaio barra 2 di aceto e all'occorrenza un cucchiaio di acqua. Allora, queste misurazioni possono essere leggermente falsate dal tipo di farina, dal tipo di colla vinilica. Potrebbe risultare leggermente più duro l'impasto o potrebbe risultare leggermente più morbido. In questo caso andremo ad agire sulla farina, quindi potrebbe diventare 130 g di farina come potrebbe diventare un 180 g di farina. Per potersi regolare, alla prima volta che andiamo appunto a cambiare la farina o la colla, il mio consiglio è pesare le confezioni dei prodotti che andate a usare. Quindi, se andate a usare la farina, faccio l'esempio 00, vi consiglio di pesare il vostro sacchetto all'inizio del lavoro, rimanendo più o meno del presupposto che dovete usare almeno circa 150 g. Poi, a fine lavoro, ripeserete la confezione per sapere esattamente quante ne avete usate. Allora, un'altra cosa importante, io ho fatto preparare la segatura da mio marito, quindi non l'ho ordinata. Avevo dei pezzetti di bancale rotti fuori, quindi ho chiesto a lui di trinciarlo praticamente. E in questo momento sto levando gli eccessi. Il vantaggio è quello, chi ha la linea da ardere e roba varia, o ha un marito che si ingegna, potete crearla in casa. Altrimenti può essere ordinata su internet. Ora i siti non li conosco, perché appunto quando mi serve faccio così. Allora, ho aggiunto circa 30-35 g all'inizio di farina, però mi sembra comunque poca. Quindi, per scrupolo inizio ad aggiungere anche un pochino di colla, che io molte volte non peso, perché vado più o meno a occhio. Ormai facendola so più o meno a quando corrisponde un 100 g. Quindi ne metto la prima parte in questo momento. Prendo una forchetta. Ovviamente tutto ciò che userete per creare le paste nel momento in cui le usate, devono rimanere appunto per i vostri lavori creativi. Come in questo caso, lascerò la forchetta e il cucchiaio a quella ciotola, appunto per l'uso del materiale creativo. Ora vado ad aggiungere un cucchiaio d'aceto. Per l'aceto vi ho detto 1-2, perché comunque è un conservante. E avendo la farina all'interno, se mi accorgo che ho bisogno di più acqua, preferisco aggiungere sì l'acqua, ma giusto quel cucchiaio. E aggiungere, se mi accorgo che è necessito appunto di altro liquido, un altro cucchiaio d'aceto. Appunto perché è un conservante. Ecco qui. Ci sono quasi. Vado ad aggiungere l'ultima porzione di colla. Scusate, ho fatto un macello. Vado a chiudere e a pulire il barattolo. Allora, mi sono accorta che effettivamente l'April-Levinaville è leggermente più liquida. Quindi diciamo che è più tendente a falsare le pese degli ingredienti. Però comunque poi, una volta che abbiamo aggiustato la nostra ricetta, il problema non sussiste. Ha un vantaggio però che si asciuga molto più velocemente della l'April-Levinaville classica. Quindi andate ad anticipare. Eccomi qui. Vado a mischiare. Come vedete ho aggiunto un altro cucchiaio d'aceto. Perché la sola acqua mi sembrava poca. Ok. Vado ogni tanto a levare gli eccessi, il legno che non si è rotto. E vado finalmente ad agire con le mani. Allora, il bello di questa pasta è che appunto risulta più grezza ed è molto più facile da colorare. Quindi quando dovete andare a ripitturare, il lavoro viene meglio. Viene molto bello il lavoro. L'unica pecca è che mentre la pasta di mais asciuga in un paio d'ore, parlo di un'asciugatura fatta bene, questo impasto ha bisogno di almeno due giorni. Io personalmente la uso quando voglio creare delle croci, delle bomboniere. Se su una torta scenografica voglio creare un ghirigori, per non mettere la pasta di mais che poi risulta lucida, uso questa pasta. Quindi ne tengo sempre un pochino a disposizione. Dura anche questa o un mesetto abbondante. La dovete conservare come la pasta di mais e quindi avvolta con la pellicola. Per vi faccio vedere la croce. Se qualcuno di voi ha bisogno di qualche stampo che vede usare nei video, me lo può scrivere. Sarò ben lieta di procurarvelo. Ecco. Non sono convinta, la vedo troppo morbida, quindi aggiungo un altro po' di farina. Anche perché mi sto accorgendo che si sta attaccando sopra il recipiente, quindi un po' di farina la sto andando a perdere. Quindi quando andrò a fare la pesatura finale degli ingredienti, probabilmente toglierò almeno una ventina di grammi, se non 30 grammi dalla pesa. non manca molto, ragazze. Vorrei cercare di recuperare un po' di questa farina, perché mi sono accorto che è farina, la segatura è entrata tutta e ciò che è rimasto è farina, quindi vorrei cercare di recuperarla. anche perché come sapete a me piacciono gli impasti non troppo morbidi, perché quando creo l'impasto per una pasta modellabile, cerco spesso di farla diventare leggermente più dura, perché tutte le paste, quando poi le andiamo a lavorare con le mani successivamente per ciò che ci serve, tendono a riammorbidirsi e quindi se l'impasto iniziale, quindi nella preparazione la lasciamo leggermente più morbida, si va a appiccicare le mani e inizia ad essere un pochino scomodo lavorarlo. Invece avendola leggermente più dura nella peggiore delle pose si lavoriamo un pochino di più nelle mani, anche se poi a forza di farla imparate la consistenza che vi serve. Vedete con questa pasta riusciamo a fare un po' di riciclo creativo. Ci sono quasi eh. La consistenza è giusta. Cerchiamo di levare un po' di eccesso. Quindi ragazzi io penso che siamo rimaste sul 150 grammi di farina, perché un pochino è rimasto sotto. Poi vi andrò ad accertare ripasando appunto gli ingredienti e quando andrò a registrare se è cambiato qualcosa ve lo faccio sapere, se non avrete nuove notizie vuol dire che la pesa ha confermato la mia idea che non erano cambiate le misure iniziali. perché è rimasta penso un buon 30 grammi se non vuole aggiornati di più di farina è rimasta sotto. Eccola qui. Ci sono quasi, vi faccio la pallina. Questo impasto è molto gradevole in tutto che è fatto di segretura. Ci siamo quasi. Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Spero vivamente che i nostri video vi piacciono, che ci tornerete a trovare. Chi voleva venirmi a cercare su Pertafilava pagina Facebook. Lì ci sono tanti schemi e tanti altri tutorial fotografici. In più c'è una parte di comunità, eccola qui, dedicata proprio a voi creative che vogliono vendere. Ecco l'oggettino che ho creato. Vedete come ho pitturato dove viene il carino. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Spero di avere tanti like qui sotto. Un bacino. Alla prossima. Grazie. Grazie.